Detriti, massi, pezzi di legno e rifiuti di ogni genere invadono la passeggiata Porto Scala a Torre del Greco. Come testimoniano le immagini effettuate dalle nostre telecamere, tutta l'area riversa in condizioni critiche a causa del maltempo degli ultimi giorni. La furia del mare ha spazzato via tutto, inaccessibili anche le giostrine per i bambini. La zona è ricoperta inevitabilmente da materiale ingombrante e quantità copiose di plastica. Le violente mareggiate di questi giorni hanno letteralmente distrutto quel poco che già restava, rendendo il sito inaccessibile. Un copione che si ripete in caso di avverse condizioni meteorologiche. Senza infatti una barriera di protezione non si riesce a contenere la furia delle onde. Problemi analoghi anche nel primo tratto della litoranea.